Sin dalle prime ore della mattina, oltre 250 militari della Guardia di Finanza di Salerno coaduivati da 17 funzionari doganali su disposizione della locale Procura della Repubblica hanno eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 69 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di plurimi reati commessi nell'area portuale salernitana. Il provvedimento riguarda funzionari doganali e personale sanitario spedizionieri, dipendenti di società operanti nel porto di Salerno, indagati a vario titolo in concorso per ipotesi di peculato, corruzione, favoreggiamento personale falso, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a sistemi informatici, ricettazione, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti. I particolari dell'operazione sono stati illustrati con una comunicazione per via telematica del Procuratore della Repubblica di Salerno, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e da altri funzionari.